A riguardo della domanda del signor Giorgio in riferimento all'artrosi dell'anca, intervento dell'anca e accesso mini-invasivo o quantomeno la mini-invasività a livello dell'anca, posso semplicemente confermare il fatto che viene eseguito questo intervento. Ma in cosa consiste l'intervento cosiddetto mini-invasivo? L'intervento mini-invasivo consiste nell'accesso risparmiando assolutamente l'integrità di muscoli e tendini, cioè si passa attraverso i muscoli senza doverli staccare. Questo permette un recupero più veloce, permette un sanguinamento minore. L'impianto di per sé stesso, cioè il tipo di protesi che si utilizza, è comunque sempre lo stesso, indipendentemente dalle vie di accesso. Però certo, questo tipo di approccio, questo tipo di intervento permette sicuramente un recupero più veloce, specie nel breve-medio termine, dall'intervento come conseguenza appunto dell'intervento. Importante quindi sarà la fase riabilitativa come sempre nell'ambito dell'impianto di una protesi d'anca, però con i presupposti di prima e quindi la mini-invasività sicuramente avremo dei tempi più rapidi, più ristretti e un più immediato ritorno alle attività quotidiane. Grazie a tutti! Grazie a tutti!